a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovissimo video oggi parleremo di siri cos'è siri poi introduciamo siri perché siri è una piattaforma più che piattaforma è un assistente vocale che può essere usato su iphone e ma la domanda cosa c'era prima di siri è qua che ci farebiamo un attimo andiamo indietro nel tempo cosa c'era prima di siri c'era lui c'era il voice control cos'era il voice control era una roba di ios 6 solamente di vecchia generazione c'era su ipod e iphone però voice control era un controllo vocale che serviva per la musica poi non ho capito c'è ci sono anche altre funzioni però non riesco a farle partire quindi però voice control è davvero interessante perché